allora questo è il set di coltelli dell'aico in acciaio modello i kf 8004 sono quattro pezzi di qui è un buccia battate e tre coltelli di varie misure ecco qua questi sono tipi una scatola è comoda perché sono sotto magnete quindi comodissima all'interno troviamo istruzioni per la pulizia che semplice si lava con l'acqua calda con un panno morbido per asciugare semplice questi qui l'aico e poi troviamo il buccia battate questa è in ceramica ottima con l'arco quindi molto comodo anche qua per mettere il dito quindi per appoggiare sbucciare bene e poi ci sono questi bellissimi tre coltelli di varie misure ovviamente ogni coltello e protetto con la punta di plastica che sono molto taglienti quindi mi raccomando siete molto attenti poi cosa importante molto bene equilibrato come peso quindi è molto comodo da tenere il manico e di colore nero molto buono rifinitura perfetta potete vedere quello che è importante l'acciaio inox è un pezzo unico che lama che prosegue tutto fino al manico è tutto un pezzo unico l'unica cosa è questo nero che ovviamente va incastrato ma è perfetto molto liscio e lama è molto tagliente quindi state attenti adesso facciamo prova di pomodoro questo è un coltello questo è un poco più grande ok e poi abbiamo questo coltello grande diciamo da macellaio da carne ok sempre molto bello la prova del pomodoro di base eccola qua un taglio netto semplice ecco qua come potete vedere i taglietti e si riescono a fare le fettine molto piccole quindi che dire molto buono io lo consiglio a tutti ciao